E salve ragazzi, io sono Fabrinker e oggi siamo qua su Diventa un mito con il nostro Alex Del Piero per affrontare Perugia e Frosinone. Brutte notizie tra l'altro. Io starò in panchina contro il Perugia, non so perché. Cioè, sono l'unico che gioca bene in sta squadraccia di scappati di casa e mi mettono in panchina. Quindi vabbè. Vedremo quando entreremo, forse nel secondo tempo, chi lo sa. Intanto vedremo un po' la partita assieme per vedere come butta, ma cioè, raga veramente. Quando mi ha detto resterai in panchina ho detto ma come è possibile, scusate, cioè, perché io con tutta la gente che gioca male, perché io, cioè, vabbè. Mi odiano. È palese ormai che mi odiano, ma... Ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ragazzi, vi prego, vinciamo, vi prego. Dai. Niente. Oh, fallo. Fallo per Noa. Dai, è di punizione. Niente, oh. Noi non scegliamo mai le punizioni. L'avversario è sempre. Io non so perché è questo bug, ma devo ancora capirlo. Comunque, raga, cioè, io ho visto una cosa molto negativa. Di questo diventa un mito. Cioè, la IA gioca veramente male. Ma in generale, cioè, che sia avversario o alleata, gioca malissimo. Ma non so perché, cioè, tipo, nel campionato master gioca meglio. Invece, diventa un mito giocando veramente male. Non capisco perché. Cioè, è sempre questi passaggi lunghi, no? Non ha senso. Non ha veramente senso. Cioè, non è... Il calcio non è così. Sì. Ci sono dei passaggi lunghi, per carità. Ma non uno ogni 5 secondi. Cioè, ci gioca molto anche il palaterra, nel calcio vero. E non so perché tutti questi passaggi lunghi di continuazione si basa solo su quello. Non so perché, solo su quello. Quindi, ragazzi, un consiglio spassionato. Se volete giocare, diventa un mito. Fatevi un personaggio alto 3 metri e 90. Sicuro che fate una bellissima carriera. Anche se siete lenti come lo schifo. Però, almeno, riuscirete a prendere la palla di testa. Quindi, ogni cosa sarà vostra. Ogni palla sarà vostra. Fantastico. Fantastico. Quindi, diciamo che non è un bug, ma, però, è una cosa un po' insensata, ma... Che gli vuoi fare? È così. È così. Ma, detto questo discorso, questo sproloquio, no? Ma perché non... Non ho visto che altro non importa? Dai, raga, cioè, ma... Senza di me doveste vincere facile. Secondo il mister, non mi sembra. Anzi. Anzi. Proprio giocate male, eh. Mazza. Come giocate male. Vi prego, ragazzi, su. Fate qualcosa. Niente. Bravi. Bravi. Ecco. E butta tutto via. Sempre con questo passaggio lungo. Sempre così. Tutto bello, bello. Poi arriva uno, tira caso in aria. E... Si perde palla. Ottimo. Fa sempre piacere. Oh, finalmente siamo entrati. Finalmente. Si gioca. No, perché mo' veramente... Guarda gli altri che giocano, piuttosto. Niente. Non me l'ha passata. Qui, qui. Qui, qui. No, ma ero lì. Ma cos'è? Ma che ca... Ma cos'è? L'ha passata al portiere. Cos'è? Raccontami, narrami questo tuo gesto prodigioso. Ma se no... Ero lì di fianco. Passamela giù, corta. Ero davanti alla sua faccia. Cioè, bastava un passaggio dritto per dritto. E la palla arrivava a me. Cioè, non capisco perché mi era stata per forza lunga. Mammaggia. Dai, partiamo. Eh, ma mancoso stoppa... Stoppa male. Molto male, per non dire altro, perché... Poi ci sarebbe anche... Un'altra cosa, ma... Dettagli. Mamma mia. Come siamo ridotti. Male. Posso dirlo. Oh, è incredibile. Io non tocco palla. Non tocco palla. Ma non è la coppa mia. Non me la passano bene. La coppa è loro. Non me la passano, in modo decente. Allarga il gioco. Ha la possibilità di andare verso la porta. Bravo. Eh, però prendi una palla. Partiamo? Con calma, eh. Tanto so, sta vincendo 8-0. Quando mai. Occasione per il contropiede. Mamma mia, pure il palo ha beccato. Pure il palo. Stiamo rischiando troppo, ragazzi, come qua. Davvero. Davvero troppo. Oh, così mi piace giocare a me. Passaggio corto e via. No, perché? No, l'avevo quasi presa. L'avevo quasi presa. Non so come, ma l'avevo quasi presa. Passamela. A 34, dove vai? Perché non ci vai sulla palla? Ti fa schifo? Io sono senza parole. Ma si può che a me sti gioco della squadra? Domanda. Che quasi quasi. Se si può, sono passaggi corti e via. No, perché? Capisco tutto, ma... Un po' mi girano anche me, eh. Fatti un attimo, vedi? Se si può fare qualcosa. Si può? Imposta tattiche? No, non si può. Non si può. Uffa. Giocatore. Niente, non si può fare niente. Sì, però io non... Non posso giocare così, mi annoio. Non è il mio gioco con questo. Cioè, sono anche basso. Come lo devo dire, sono basso. Eh, se non vuoi passare, sono lì, eh. Niente. Mortacci tua. Ma quale è di tutto per vincerla? Per perderla? Passa qui. Passa qui. Cosa cavolo, eh? Guarda questo. Ma stava caraccia da scorrere, invece. Fa mezza rovesciata. Vabbè. Questo spettacolo. Ottima giocata. Cerca il compagno in aria. Oh, non si riesce a far nulla, eh. Incredibile come sia tutto inutile. Il risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Io corro a vuoto. Corro a vuoto perché vuole riprendere la palla. Non me la danno. Ah, raga, ma che mi state evitando? Niente. No, vabbè, io... Pure fallo, ma dove? Dov'è il fallo, raga? Dov'è il fallo? Non c'è il fallo, non c'è. Beh, non esiste, l'hanno inventato. Non so se i passaggi inutili perché li fanno. Bravo Alex. Rialzite. Rialzite, l'hai visto? Che lancio fatto? No, era in fuorigioco. E vado, ma che ne sapevo che era in fuorigioco, mo. Ho visto che scadeva il tempo, ho provato a lanciare. Stava anche andando bene il lancio. Peccato che era in fuorigioco questo. Zero a zero. Ragazzi, mi sto emozionando in queste partite che non avete idea. Infatti, sbadiglio perché sono molto contento e felice di giocare a questo gioco in questo momento della mia vita. Cioè, ma come è possibile giocare così? A parte di scherzi, dai. Siamo tredicesimi. Facciamo pena. Ha fatto 4 gol in 16 partite. Ma perché questa cosa qui? Perché non sanno passami la palla. Cioè, quindi o mi scarto tutti io, o mi discarto tutti. O il gol non si fa? Eh, purtroppo è così. Messaggi. Prima punta. Vorrei anche vedere. Rata di imbecille. Allora. Mi sto allenando qua. Oh, fra poco ho diventato leader della squadra. Buono. E... Io, però, vorrei capire una cosa. Una piccola cosa. Come si fa a capire come chiamare la palla? C'era un modo. Forse qua? Nei... No. 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 Guardiamoci in partita, va? Che magari troviamo l'impostazione per vedere i comandi del gioco. Per chiamare palla, perché... Io non so se posso chiamare palla su PES. Oppure no. Su FIFA si può. Su PES non lo so. Ecco perché mi chiedevo... Se si poteva oppure no. Domanda. Sì, sì. Dentro possiamo anche mandarla da qualche altra parte. Fatemi vedere. Aiuto. Aiuto. Enemco dei comandi. Attacco. Ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo con le donne minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. No. Ah oh Passaggio E dov'è chiama il passaggio qua Niente Ma che mi frega mai dei consigli No Quindi Possesso palla Non c'è Boh vabbè non posso chiamare la palla mi sa eh Se qualcuno sa come si fa grazie Per il suggerimento perché qui non c'è scritto Che bello Che meraviglia Sentite oggi possiamo fare un qualcosa di Ecco Dicevo Possiamo fare qualcosa di buono Ma mi sa di no eh Da questo lancio Mi sa che oggi Non si fa qualcosa di buono Bene Sono contento Dai Dai Te l'ho bucato Niente L'avevo anche bucato L'avevo anche bucato Non c'era nessuno Poteva fare il giro Questo qui non corre Io sarei qua Io sarei qua Io sarei qua Io sarei qua Sono libero Alex Nooo fuori Andava fuori la palla Però la paralla Però andava fuori Di poco ma andava fuori Vabbè dai Il menù tiro l'ha fatto oggi È già qualcosa È già qualcosa L'ampiezza del gioco Sembra essere una caratteristica importante Della loro manovra Sì assolutamente Ma no ma cos'è Vai a pressare Vai a pressare Ma chi va a pressare Mamma mia Quanto l'ho vista brutta Desta cosa Oh Riesco Bello Bello Che ci arrivo anche Appena di testa la palla Ci arrivo anche Questa è una cosa bella Ma Problema È sempre quella Pure i compagni Sono tipo Mezzi mongoloidi Quindi È un po' un problemino Cerca di far avanzare Suoi Con un pallone interessante Cerca di sfondare Sulla corsia di sinistra Elegante In posizione per il cross Bravo Alex Bravo Tocca da in difesa C'è un'attivale normale Un attaccante che tocca da in difesa Per il pallone Sto appiato C'è È fuori da ogni logica Sì vabbè Pure questo contrasto irregolare Mi fa rivedere È un contrasto irregolare Mannaggia All'arbitro Altro che Bene Bravo Bravi Vai 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 che te l'ha passata bene Ma no Ma perché l'hai buttata via Sta palla Te l'ha passata bene apposta Per fare i gol E tu la butti In culo Ma non possono concedere così tanto Non è giusto Non è giusto Cerca di pescare il compagno col filtrante Alex Era passato Alex Era passato Ma il contrasto non mi ha aiutato Non ci voglio credere Non ci voglio credere Oggi andiamo un pochino meglio Semberebbe Adesso la son tirata Alex Alex Che schifo Alex Che schifo Posso dirti che è fatto veramente schifo Cioè io ti ho fatto tirare io Però c'è Mamma che tiraccio Mamma che tiraccio Che è venuto fuori Inguardabile Alex Alex No Ma come ha fatto Ma Ma come ha fatto Non ci credo ragazzi Non ci credo L'angolata palo Interno manca entrata Poi guarda cosa fa Alex Guarda cosa fa Che cazzo fai Cioè degno del peggior Dzeko Porta vuota Ma cos'è sta roba Anzi Gagliardini sembrava Si vabbè Però anche te Alex Veravendolo ti ci metti Anche tu sei una pippa Vabbè Niente Ho fatto per le tre punti alla squadra Fantastico Quando mi ricapita Un'altra azione così Ora Ho tirato malissimo Bene Ti piacere Niente oggi se non c'è Mister cambia Ti prego Perché veramente Sto soffrendo anche io A vedermi in campo Sì Ammetto Che è successo Domanda Ma non sono falli questi Ma che cavolo ti fischi Ok fallo nostro Ma comunque non è fallo Cioè Non è che cambia idea Perché è mio Non è fallo In queste condizioni Lo hanno intrappolato Il pallone sulla sinistra Ora cosa succede Bravo No mancoso Perché mi guardi Non hanno indietacato spazio Mancoso Non devi guardarmi Che non sono bello Fortunato che questo Ha sbagliato Quasi peggio di me Quasi Perché è peggio di me Non c'è nessuno E voi Guarda portavolta L'arangelo Però Ma no Perché hai fatto Un chio di testa Si fanno intercettare il pallone Serve più precisione E velocità Decide di sfruttare la fascia Brava Tira su Tira su Una volta che devi farlo Tira fallo Ecco Lo fa male Una volta che deve farlo Lo fa male Però abitra è finita la partita in teoria Non vorrei dirtelo no So che ti sveglierei del mondo A mondo dei sogni Però È finita Oh grazie Beh Comunque abbiamo dominato Davvero dominata Sta partita qua Problema che io mi sono mangiato Sicuramente un gol Sicuro Poi negli altri potevo far meglio Però È andata così Che vi devo dire Mamma mia Riusciamo a fare qualcosa ragazzi Mi prego Devo riscattarmi Da quel gol È stato veramente brutto Quello che ha mangiato Ma no Così Andavo in profondità Pallone lungo In verticale Bell'anticipo Pericolo sventato C'è il lungo pallone in avanti C'è il lungo pallone in avanti C'è il lungo pallone in avanti È incredibile Alla fine hanno capito che il pericolo è nell'aria Se i bomber sono lasciati liberi di fare quello che vogliono Beh prima o poi la buttano dentro È il loro mestiere Ben fatto Ha intervenuto quando c'era bisogno di lui Prova giocarle in profondità No Alex Ma che è sta lentezza Che lentone che è Poi si stanca subito sui giocatori Si stanca subito Non puoi fare nulla C'è corre Meno di me è un gioco a calcetto Ed è già stanco Ma come cavolo è possibile Dacci un po' di gas Alex Che qua non muore mica No Bravo Ma come cavolo ha fatto A prendere la palla Non me lo chiedete Niente No 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 Perché Per una palla così Semplice Da non perdere Era difficile Perderla Sta palla Dai Con questa palla Con questa palla Non buttarla Ecco La buttata subito via Manco un secondo a dirlo No Ma che sono uscito Perché mi hai cambiato Per mancoso Ma dai mancoso Con sei da 50 anni Peggio di me Vabbè Niente Mi hai cambiato Un'altra volta Che oggi in realtà Sono stato il migliore in attacco A parte Vabbè Fugol mangiati Che hanno fatto veramente schifo Però Cioè nel complesso Non ho giocato male Diciamoci la verità Sono l'unico che hai tirato in port Innanzitutto L'unico che hai tirato Gli altri manco ci hanno provato In port Quindi già per questo Mi aiuterei Un ringraziamento Non poteva più continuare così L'ago della bilancia Potrebbe pendere Da una parte o dall'altra Non si stanno stambiando scorsi Niente Eh ma senza altro Scusa quando si fa niente Mi dispiace Si vede Bravo Ottimo fallo questo Mi è piaciuto Manco il giallo Un fallo da tipo giallo Assicurato E manco il giallo Vabbè Oh De Luca Si è più entrato Dai De Luca Puttana Che scandalo Che scandalo Questo giocatore De Luca Vabbè Zero a zero Eh Piuttosto deludente Una partita molto tattica Che devo dire io I tiri sui passi Per il primo tempo Tutti io le ho fatti I tiri in porta Tutti io Ma zero a zero Vabbè Eh d'altronde Siamo decimi Non so come Visto che Non ne vinciamo una Dal Dal 1950 Però Va bene Andiamo avanti Dovrei essere un leader ora In teoria Dovrei essere venato come leader Dovrei Leader Oh Bene 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 Adesso sono un leader ufficialmente Alleniamoci però ancora su qualcos'altro Che vuol dire tre No Leader sono già Spirito combattivo Spirito combattivo Dai Su 140 giorni Va bene Va bene E Io farei Tutto sulla resistenza Perché Veramente Imbarazzante La resistenza che ho Ma Direi che può essere tutto Il prossimo episodio Giocheremo contro Pisa E Ascoli Eh Chissà come andrà Chissà come andrà Niente ragazzi Direi che è tutto Per questo episodio qui E ci becchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi